Pronto? Potete preparare un attimo? Non ho capito. Eh, potete preparare un attimo l'impianto? Andiamo andando sull'impianto? Eh sì, perché abbiamo visite. Ah, va bene. Ok, va bene. Ok, grazie. Eh, lasciamo l'assetto di prima? Sì sì sì, torniamo, torniamo a... L'assetto di prima. Ma il resto sta a posto? Ok, sì sì, sta a posto. Vuoi fare una cosa? C'è una piccola paratoria centrale che non ha compiuto i passi. Chi a fianco là? Chi a fianco là? Chi a fianco là, sì, era per la... Chi a là? Chi a là praticamente va direttamente a Rutorrino. Ah, va direttamente... Che vale la 40 o meno? Però che se ne era 15 centimetri, penso.... Ah sì? 22 centimetri. La lasciamo in servizio. Eh, sennò, voglio dire, a parte che perdiamo i fanchi, ma vanno nel fiume l'era di Dio, insomma. Eh, allora io te lo faccio fare pure il giri, mi intanto ti porto dove dico io, ti spiego quello che dico io, poi pure per capire, voglio dire, tu effettivamente dove vuoi arrivare. Eh certo, ci mancherebbe, sì. Ma pure, visto che io faccio pure il pietre di cambiere, lo affidavo, affidavo queste due persone, indivise da quattro. Sì, così, e li facevamo a frittata. Eh, non so chi c'è. Tutto zumbato, tu gli vaschetti ti hanno chiesto di merda. Ma io stamattina non era così. No, stamattina nemmeno, dopo dici che sono chiusi per sé l'undici e mezzo, io non ci sono andato dopo. Eh, ma... È cominciato a stare su qua... Eh, ma è un bel scelante. Eh, ma è un bel scelante, sta chiesto a raggiungere. Eh... Ma...